Ci siamo? Marroni ha votato. Fautilli, poi chiudiamo. Occhio, onorevole Fautilli. Non esageri con l'entusiasmo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Ora siamo all'emendamento 1.29 Amodio e quello della Commissione 1.614 che sono vertenti sulla stessa materia. Prego, relatore. Allora, l'onorevole Amodio c'è un invito a ritiro perché c'è l'emendamento del 614, però chiedono al cantonamento del 01614 perché ci sono i subemendamenti e quindi dobbiamo prima riunirlo il comitato dei nomi. Vogliamo verificare se si è accolto intanto l'invito a ritiro? Sì, prego. Sì, Presidente, io lo ritiro anche perché c'è un emendamento che lo riformula, che è quello della Commissione. Grazie. Perfetto. Quindi si intende accantonato l'1.614 e i relativi subemendamenti. Siamo all'1.606 della Commissione, su cui non ci sono subemendamenti presentati. C'è il parere favorevole sia della Commissione del Governo, sia del relatore di minoranza 5 Stelle. Lo poniamo in votazione e la votazione è aperta. con la Commissione del Governo, sia del relatore di minoranza 5 Stelle. Ho La votazione chiusa. La Camera approva. Siamo all'1.613, sempre della Commissione, favorevole Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza, la votazione aperta.